Ben trovati e ben trovate da Andrea Cartotto, un nuovo videocorso di cui vado particolarmente fiero perché insieme all'amico Paolo Mugnaini con questo videocorso lanciamo ufficialmente in tutta Italia la versione 2022, nuovissima versione di PanQuiz. E che cos'è PanQuiz? Per i pochi che ancora non lo sapessero. È, e non esito a definirla tale, la migliore applicazione web e non solo per la didattica digitale integrata per creare questionari, verifiche, quiz. PanQuiz, di cui trovate qui sul mio canale YouTube, la playlist e dunque la rubrica dedicata ai videocorsi ufficiali, è una applicazione ideata appunto in Italia, pensata per il target didattico italiano da Paolo Mugnaini, programmatore, sviluppatore che da anni si concentra e si focalizza sul settore delle web applications. La professionalità di Paolo si vede e la stiamo proprio per esaminare nelle novità introdotte. Bando alle ciance, sito di riferimento, nuovo sito di riferimento, app.panquiz.com. Basta un comune browser, vi ricordo, che troviamo anche le comodissime apps ufficiali PanQuiz da scaricare per sistema operativo Apple, sistema operativo mobile Android. Per la primissima iscrizione, un clic su iscriviti adesso, ma dal secondo accesso in avanti, come accade ora per me, cliccate e vado a cliccare sul pulsante grigio. Diverse le opportunità di accesso, io scelgo il pulsante azzurro chiaro, accedi con Google, che vi consentirà di accedere o con un indirizzo Gmail personale, o come nel mio caso, e magari nel caso di qualche collega, con l'account di Google Workspace, un account istituzionale. Il nuovo panquiz, e questa abitudine sanissima, la ereditiamo dalla precedente versione, ha una dashboard, una bacheca chiara, con menu chiare in lingua italiana, voci distanziate, e per iniziare, infatti, possiamo sia cliccare su crea nuovo, che cliccare sul più in basso a destra. Primissima novità, una bipartizione, per cui, se intendiamo proporre un bel quiz verifica interattivo multimediale, in presenza, con i dispositivi mobili in mano ai ragazzi, e con le domande poste su Limo Monitor interattivo, sceglieremo la modalità del panquiz. Se intendiamo proporre, magari per uno svolgimento assincrono, o uno svolgimento sincrono, perché no, mediante classroom, o in laboratorio, o in un'aula mobile, con i dispositivi mobili, ecco che allora sceglieremo un questionario, ed è proprio la modalità che vado a cliccare per presentarvi la novità di panquiz. Come possiamo vedere, Paolo Mugnaini tiene molto ai menu testuali di facile comprensione alle indicazioni grafiche, nella prova, la freccia rossa, che ci conduce, anche non volendo, al pulsante più. Ed allora, come andiamo a procedere per comporre la nostra verifica e il nostro quiz? Intanto, andando sul più, iniziamo a lavorare per comporre la domanda con le differenti tipologie di risposte, e una delle novità è proprio qui. Vi ricordate, amici e colleghi affezionati a panquiz? Panquiz faceva tesoro della scelta multipla come tipologia e la risposta multipla. Ora abbiamo a disposizione ulteriori modalità che sono, appunto, sì, la risposta multipla, ma il vero-falso, l'inserimento di una risposta libera, il testo fisso. Ebbene, vi lascio gustare queste novità, ma vi mostro, ad esempio, scegliendo la nuova modalità vero-falso, che noi andiamo a inserire nel blocco domanda il nostro quesito, e qui troviamo l'altra grande novità, che rende panquiz estremamente appetibile, semplice, adatto a ogni ordine e grado di scuola. Infatti, oltre ai pulsanti per la formattazione del testo della domanda, troviamo, li vedete qui verso destra, i pulsanti per la scrittura matematica e addirittura chimica. Dunque, scuola primaria, secondaria di primo, secondo grado, contesto accademico, contesto aziendale, perché no? Non c'è un ambito in cui panquiz non ci consenta di fare una buona e incentivante didattica digitale integrata. Scriviamo una domanda, voglio dirvi, estremamente a tema, per cui la nuova versione di panquiz è ancora più semplice da usare. Due punti, vero, dai, verissimo. Clic, abbiamo nel frattempo connotato la risposta corretta e vi mostro, con un clic ancora sul campo domanda, che abbiamo la possibilità anche di inserire nella domanda stessa un link, una modalità quote, la cosiddetta citazione, il virgolettato per intenderci, colleghi di lettere, un estratto da un'opera o da un componimento, e vogliamo per l'appunto sapere dai nostri alunni se tale estratto del componimento sia vero o falso. Modalità quote per la domanda, la citazione. L'inserimento di una immagine nella domanda, la possibilità di avere addirittura i media, lo dico alla latina, mezzi, in questo caso che significa che possiamo porre una domanda che in realtà non sarà testuale, ma copieremo ad esempio da YouTube il link ad un video e lo incolleremo in questo rigo descrittivo, lo vedete, URL media, confermando poi la nostra operazione con la spunta verde. Andando su opzioni, che cosa abbiamo? Abbiamo le singole opzioni da settare, cioè da impostare per la nostra domanda e le nostre risposte. Ad esempio, questa è una risposta obbligatoria. Per mischiare le carte e, tramite questa bella modalità, anche sostanzialmente azzerare la possibilità di copiatura, possiamo mostrare le risposte in ordine casuale. Impostare, se lo vogliamo, un tempo massimo per singola domanda, ma panquiz rispetto ad altre risorse, magari esterofile, non pensate per la scuola italiana, lavora sì sulla gamification, l'apprendere divertendosi, ma fonda tutto sull'apprendimento e non sulla competizione in sé. È dunque un'applicazione inclusiva per la scuola. Pertanto, salvo i casi che sarete voi a valutare in classe, suggerirei di lasciare magari spento l'interruttore, imposta un tempo massimo. Mentre vado a cliccare per espandere il menu feedback, perché noi possiamo qui fornire, attenti bene, in caso di risposta esatta, in caso di risposta errata, oppure sempre, un messaggio di testo esplicativo che chiarisca al nostro compilatore perché ha fatto bene, perché invece abbia errato. Una ottima, ottima idea, perché, diciamocelo, la DDI, la didattica digitale integrata, si può fare, ma occorrono strumenti professionali, didattici e chiari, come PanQuiz. In tal senso, abbiamo visto questo menu, vado ora a cliccare sulla piccola X per richiuderlo, perché vi debbo far vedere che noi, anzitutto, clicchiamo sulla riga Fai clic qui per inserire il titolo della nostra attività. Dunque, nel mio caso, ad esempio, verifica sui verbi, perché no? Clic ok. Abbiamo titolato la nostra attività, certamente ci ricorda PanQuiz che occorre, se non lo abbiamo fatto in precedenza, cominciare però poi a comporre i blocchi delle domande. Ok? Novità ulteriore, pulsanti immediatamente qui in alto, a che cosa ci servono? Ingranaggio, clic le impostazioni del nostro questionario, perché, lo ricorderete, amici affezionati, alla precedente versione. Qua abbiamo le impostazioni generali del PanQuiz. Il titolo, un breve descrittivo, parole chiave, separate dalla virgola, che ci consentano, nel grande contenitore di PanQuiz, di rendere, perché no, se lo vogliamo, rintracciabile il nostro lavoro anche da parte di altri colleghi. ed ecco la condivisione delle buone pratiche, il colore che da blu, in questo caso, può divenire ad esempio arancione, così a colpo d'occhio, al primo accesso alla nostra bacheca, avremo dunque, attenti bene, i riquadri arancioni, e sono le verifiche per la classe prima, i riquadri verdi, le verifiche per la classe seconda, e le potremo distinguere a colpo d'occhio. Se andiamo ancora su altro, potete osservare che, potremo dunque determinare, una immagine di copertina, per il nostro quiz, anche attingendo, a una splendida libreria interna, messa a disposizione da PanQuiz, e decidere, se il nostro questionario, sia pubblico, oppure modalità, strettamente privata. Le opzioni, che qui dunque, sono le opzioni, non del singolo blocco domanda, ma dell'intero questionario, guardate come sono interessanti, e ben congegnate. Clic, richiedi dati personali, nome e cognome, saranno già richiesti, al nostro alunno, quando compilerà il suo quiz. Le domande in ordine casuale, vi ricordate? Invece, nelle altre opzioni, si parlava delle risposte, in ordine casuale. Il tempo massimo, per l'intero questionario, e questa volta è interessante, tale opzione, poiché noi, assegniamo per la nostra verifica, ad esempio, 40 minuti, non tempo per la singola domanda, ma un tempo per lo svolgimento, anche a sincrono, del quiz. Domande da includere. Vediamo un attimino, quali domande, vuoi includere in questo questionario? Includi soltanto 10 domande casuali, tra quelle che noi possiamo avere inserito, oppure, domande specifiche. Qua penso a verifiche differenziate, o attività per l'inclusione. Quante domande debbono essere visualizzate per pagina? Altra novità, piccole impostazioni che diamo una volta sola per l'intera verifica. Panquiz genererà un link, lo vediamo tra un istante, cliccando su di esso sarà possibile svolgere la verifica, e dunque questa opzione ci aiuta in termini di visualizzazione. Poi, attenzione bene, accessibilità, accessibilità, abbiamo, e sono opzioni che segnalo agli insegnanti di sostegno, ai colleghi, la lingua del questionario italiano, d'accordo, ma la sintesi vocale, per esempio Pietro Maria, voce maschile e voce femminile, che andrà a leggere le domande e le risposte, per cui in realtà, munendo ad esempio la classe di un banalissimo microfono cuffia, tutti avranno la possibilità non solo di leggere i quesiti, ma anche di ascoltare quesiti e risposte, scegliendo poi quella corretta. Inoltre, proprio perché nel 2022 potremmo tranquillamente usare PanQuizia su un qualsiasi dispositivo, due interruttori, vi consiglio di lasciare acceso l'interruttore Ottimizza per dispositivi mobili, laddove si sappia, ecco che i nostri ragazzi non useranno per forza un personal computer, e invece il carattere ad alta leggibilità lo consiglio in casi appunto di alunno H, quindi un alunno con bisogni educativi speciali, un alunno con alcune difficoltà legate alla vista, ecco l'accessibilità a scuola è importante, e PanQuizia lo sa. A questo punto abbiamo assegnato le nostre opzioni, quelle per l'intera verifica, potremmo addirittura cliccare ed aggiungere in questo caso, ed aggiungere in questo caso, ripeto, oltre alla richiesta di nome e cognome, la classe, possiamo far dichiarare la classe, e altre voci desiderate. Vado a questo punto a cliccare su Salva per confermare queste nostre impostazioni, e poi guardate com'è semplice. Anteprima Questionario ci mostra come vedranno il lavoro i nostri destinatari, ma soprattutto, andiamo un pochettino a vedere, Impostazioni Questionario ci riporta, vedete, al punto di partenza, quindi a dove eravamo poco fa, e io un ricontrollo conclusivo ve lo suggerisco, perché poi ci basterà cliccare sul classico triangolo rovesciato, che è quello della condivisione, e guardate com'è semplice, un clic su il doppio foglio, i due fogli appoggiati, ho copiato il link e lo posso dunque mostrare su Limo Monitor Interattivo per far sì che gli alunni compilino. Posso pubblicare sulla bacchecca di un ambiente di restituzione come Classroom, ma per Classroom c'è l'integrazione diretta cliccando su Condividi su Google Classroom, oppure su Includi in altri siti, oppure ancora dispositivi mobili, in mano, in capo ai ragazzi, visualizza codice QR, ed inquadrando quel codice QR vengo immediatamente ricondotto alla compilazione. Il PIN è il codice numerico che ci può essere utile se invece, magari alunni un pochino più grandi, utilizziamo la app ufficiale di PanQuiz per far svolgere loro l'attività, o semplicemente se via browser, in autonomia, vogliamo far svolgere il nostro questionario ai ragazzi. In questo caso, vedete, l'indirizzo per la fruizione diviene take.panquiz.com e mi viene chiesto il PIN. Bene, questa è la panoramica e ripeto, con questo videocorso lanciamo ufficialmente in tutta Italia e per ogni ordine grado di scuola PanQuiz 2022 da una idea e uno sviluppo di Paolo Mugnaini, mentre per la videoformazione vi beccate, come è già accaduto in precedenza, Andrea Cartotto. Provatelo, scoprirete quanto risulti gradito agli alunni, ma quanto piace anche a noi utilizzarlo per creare attività didattiche vere per i nostri ragazzi. Attenzione, seguite il canale, tenete sott'occhio anche le novità che Paolo Mugnaini stesso pubblicherà perché è in arrivo una sorpresa e sono in arrivo trucchi e idee per tutti i docenti con una sorpresa che ancora non vi annuncio, ma questo videocorso ci presenta la novità e poi avremo modo di commentare idee, piccole migliorie ed ancora nuove modalità per scoprire e gustare quella che ribadisco è in questo momento la migliore applicazione didattica che possiamo utilizzare in Italia per la scuola del presente e anche del futuro prossimo e il futuro in realtà è già qui.